L'indagine sul giro di presunte mazzette pagate da alcuni impresari delle onoranze funebri agli operatori dell'ospedale di Padova addetti alla vestizione e alla conservazione delle salme all'obitorio si è conclusa con la richiesta del giudizio per 42 persone accusate a vario titolo di corruzione, truffa e falso. Gli avvocati di alcuni imputati hanno chiesto che il reato di corruzione venga derubricato in concussione per induzione. A detta dei legali i titolari delle ditte di pompe funebri sarebbero stati vittime di un sistema corruttivo costruito da dipendenti pubblici. L'ipotesi di accusa è che le ditte di onoranze funebri abbiano pagato in contanti, ogni volta fra i 30 e i 40 euro, gli addetti infedeli che svolgono i servizi di vestizione e conservazione delle salme per evitare di versare il ticket di 75 euro alle casse dell'ospedale. La difesa di alcuni imprenditori è appuntato sulla coercizione imposta da un ricatto dei dipendenti dell'ospedale. La decisione del giudice arriverà il 13 dicembre prossimo.